Ad oggi gli aspiranti a governare a Greggento sono in cinque. È atteso il sesto, espressione di Movimento per l'Autonomia, Partito Democratico, future Libertà e Alleanza per l'Italia. Le consultazioni all'interno della coalizione si susseguono. Alla luce delle vicende Bennote, Grillo, Pennica, i leader dei partiti sono prudenti e preferiscono non sbilanciarsi e i nomi trapelati negli ultimi giorni in realtà potrebbero anche essere depistanti. Intanto in corsa ci sono gli avvocati Marco Zambuto, Giuseppe Ernone e Salvatore Pennica ed il dipendente dell'Agenzia delle Entrate, Giampiero Carta. Della sfida elettorale intende far parte anche l'associazione ambientalista Movimento Azzurro che propone un veterano della politica, Angelo Errore, già sindaco di Greggento alla fine degli anni 70, oltre che deputato all'Assemblea regionale siciliana e assessore regionale eletto nelle fila della democrazia cristiana. Angelo Errore, che del Movimento Azzurro è il presidente, annuncerà la candidatura nei prossimi giorni durante una conferenza stampa, durante la quale sarà presentata anche la lista del Movimento Azzurro per il Consiglio Comunale di Greggento, definito anche il programma composto da 10 punti. Il programma si attaglia perfettamente ad una linea di cambiamento della città, difatti prevede la definizione del ruolo della città, la guerra contro il malaffare, contro la corruzione, contro lo sbriciolamento del centro storico, vuole contribuire a ridurre le coste della politica, vuole pacificare la città e finire la guerra tra i centri commerciali, tra Arnone e Grandangolo, vuole impedire l'arrivo di nuove lobby che riguardano i lavori pubblici con riflussi di ordine mafioso, si vuole aprire ad un confronto con un imprenditore illuminato che ha costituito la fondazione per cambiare il modo di governare la città e il metodo stesso. La città non va più governata con gli strumenti vecchi ma logicamente con i piani di impresa e il progetto di finanza. Credo che chi è illuminato nell'imprenditoria si voglia muovere in questa direzione. Io sono un po' perplesso per quanto riguarda il quadro delle candidature perché aspetto la definizione. Il fatto che i candidati a sindaco di Agrigento vengono scelti tutti da una professionalità che riguarda gli avvocati ho qualche dubbio. Purtuttavia però noi vogliamo lavorare in un confronto sereno per cercare di trasformare la città in struttura produttiva con iniziative abbastanza virtuose. Al fianco di Angelo Errore, Valeria Castronovo, studentessa universitaria di Agrigento, 24 anni. Il suo nome è nella lista dei candidati al Consiglio Comunale proposti dal Movimento Azzurro. Devo dire che sposo interamente questo progetto perché spero in un cambiamento, spero che possa comparire questa situazione di illegalità che ci ha governato fino ad oggi e soprattutto spero di essere l'input per molti giovani come me precari a rivalutare la politica e avere di nuovo fiducia nella politica. Con l'onorevole Errore spero di sposare questo progetto e di impegnarmi per realizzarlo.